60 Seconds del lunedì sera. Amici, oggi proverò, anche se solo con le parole, qui servirebbero, aiuterebbero le immagini, ma a volte non è necessario. Si può provare con il racconto a sottolineare la distanza siderale, l'abisso. L'abisso che poi, come dire, ha un duplice significato naturalmente. Fra le dichiarazioni che abbiamo sentito ieri alla televisione italiana dal ministro degli esteri russo Lavrov era un diplomatico, sottolineerei era, e la realtà dei racconti dei civili ucraini che sono riusciti a uscire da un mese più d'inferno nei sotterranei della cieglieria, ormai famosa in tutto il mondo, Azovstal di Mariupol. Da un lato abbiamo un uomo che si mette a parlare di Hitler ebreo, o anche l'equidistante Israele in questo caso siamo la verità. Forse ha rivisto un po' quell'equidistanza, il senso dell'equidistanza. Storia così, che si può ridurre accoriandoli, se ne può fare strame tanto. Possiamo dire che ormai vale tutto. C'è una guerra, ma si dice che la guerra non c'è. C'è un popolo aggredito, uno Stato che si vuole cancellare, si dice che quello Stato è nazista. E si tira in mezzo l'Hitler ebreo. Davanti a questo siamo alla fine, non c'è altro. Cos'altro può dire un uomo che si disse diplomatico davanti a castronerie inascoltabili di questo tipo? E poi ci sono i racconti di chi non ha visto la luce del giorno per settimane, temendo di morire ogni secondo che passava in quell'inferno in terra, a fianco magari dei propri bambini. Come si mettono insieme queste due cose? Non le si mettono insieme. Non è umanamente possibile metterle insieme. Però ci dobbiamo ricordare che entrambe sono frutto, derivazione diretta, conseguenza delle scelte di un uomo, di una parte, di un governo. Alla fine è tutto lì. Alla fine passano le settimane e lì si torna.